I tagli allagiabili diventano sempre più concreti, l'azienda ha detto che ci saranno 190 licenziamenti non accogliendo la richiesta del governo, lei è stato uno dei primi, anzi il primo a intervenire su questo caso, che bisogna fare a questo punto? A mio avviso senza se e senza ma bisogna dire all'azienda, e questo è l'impegno che ci siamo presi i parlamentari del territorio tutti insieme, al di là del colore politico, che il governo deve dire all'azienda con chiarezza che deve dire no ai licenziamenti e poi fare il tavolo della trattativa. Ovviamente già ieri si è tenuta in sede del Ministero dello Sviluppo Economico un primo incontro e purtroppo non è stato, non ha avuto un esito favoribile. L'azienda ha continuato a dire che vuole licenziale, noi ribadiamo senza se e senza ma che non si può licenziare 190 dipendenti ancora, visto che l'azienda è scesa da circa 1.000 dipendenti a quasi 400, perché questo sarebbe un danno per il territorio, ma soprattutto perché penso che in un momento in cui noi siamo verso la transizione ecologica e la Giabili di Marcianese produce colonnine elettriche, è inspiegabile ai più il motivo per il quale noi non continuiamo a dare una mano affinché ci sia sviluppo e occupazione sulla transizione ecologica e sulla costruzione di colonnine proprio nell'azienda di Giabili. Non ritieni che le politiche neoliberiste degli anni scorsi abbiano favorito queste situazioni così drammatiche per i lavoratori? Per quello che mi riguarda ci vogliono nuove regole d'ingaggio, ma soprattutto nuove garanzie che devono andare tutte a favore dei lavoratori se le multinazionali vogliono lavorare qui in Italia. È impensabile che possano venire, prendersi i contributi dello Stato e danneggiare i lavoratori per strada. Questa è una cosa che noi non consentiremo e abbiamo detto senza se e senza ma che siamo dalla parte dei lavoratori perché vogliamo che ci siano investimenti di sviluppo. Non possiamo permettere che i lavoratori vengano trattati come carne da macello.